I romagnoli sono sempre più connessi, tre famiglie su cinque possiedono un computer, uno smartphone, giocano a console e navigano sul web. Sola Rimini è di 357 euro la spesa media annua a persona di materiale tecnologico. E' quanto emerso dall'inaugurazione del nuovo store Media World a Savignano sullo Rubicone nel parco commerciale Romagna Shopping Valley. Il format del negozio è totalmente rinnovato e le dimensioni sono maggiori rispetto al precedente punto vendita della zona. Si tratta infatti di oltre 2000 metri quadrati. Dopo 24 anni indubbiamente si è un grande cambiamento. Questo è un negozio completamente nuovo, quindi un format completamente nuovo e come puoi vedere già dall'ingresso abbiamo subito posizionato un mercato esploso da poco che è l'Urban Mobility dove ci sono tutta una serie di macchine che si muovono partite da una moda americana e che adesso anche in Italia sono esplose. Quindi cerchiamo di avere una gamma assolutamente completa da offrire al nostro pubblico. I prezzi, i cartellini sono tutti digitalizzati, cosa significa? Sì, molto banalmente oggi il consumatore è un consumatore molto più attento, molto più esperto. Avere dei cartellini di prezzo totalmente digitalizzati significa che cosa? Beh, prima di tutto essere trasparenti nei confronti del consumatore perché in questo momento noi abbiamo tecnicamente la possibilità di aggiornare i punti prezzo, quindi i prezzi, in maniera istantanea. E questo lo si può fare ovviamente con un click, con un semplice click. Grazie.